Cinque persone in carcere, due ai domiciliari. E' il risultato dell'operazione antidroga denominata Oberdan, portata a termine dalla Polizia di Cosenza, eseguita grazie ad una serie di articolate indagini supportate anche da presidi tecnologici. Inoltre, sempre nel corso dell'operazione, i poliziotti del questore Fabio Conticchio hanno rinvenuto anche nelle abitazioni di alcuni indagati quantitativi di hashish abilmente confezionato, piantine di marijuana, denaro contante e bilancini di precisione. Tra i clienti degli spacciatori vi erano professionisti, pensionati ed anche minorenni. Un fenomeno sociale, quest'ultimo, che è stato evidenziato con molta preoccupazione dalla questore di Cosenza nel corso della conferenza stampa tenutasi presso la Procura della Repubblica della città Abruzzia, il quale ha rivolto anche un appello a quei genitori che dovessero notare strani comportamenti dei loro figli a rivolgersi proprio alle forze dell'ordine. Sì, il nostro obiettivo è anche quello di dare serenità alle famiglie. Quindi l'invito che faccio alle mamme e alle mogli è di darci delle indicazioni. Possiamo intervenire lasciando l'anonimato. Noi ripetiamo, siamo per poter dare un contributo anche dal punto di vista sociale. Quindi mamme, mogli denunciate. Ma abbiamo un'inversione di tendenza. La gente ha fiducia verso le istituzioni e ci rappresenta delle situazioni che ha bisogno di attenzione.